Per il laboratorio del secondo giorno è prevista la realizzazione di un nido, quest'ultimo verrà realizzato con materiale reciclabile. Per l'occorrente ci servirà una bottiglia di plastica, una colla a caldo e per finire anche della tempera. Come verrà realizzato questo nido? Praticamente abbiamo questa bottiglia d'acqua che verrà tagliata. A noi servirà la prima parte e la parte finale. Verranno decorate come piace ai bambini, però nella parte finale bisogna creare un'apertura. Infatti quest'ultima sarà la base del nostro nido. All'interno metteremo anche del cotone. Per concludere, alla fine quando entrambe le parti saranno decorate, la parte iniziale verrà incollata sopra la parte terminale. Così appunto il nostro nido è... Così appunto il nostro nido è un'apertura. 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 Così appunto il nostro nido è un'apertura.